Ciao, sono Cristian Federici, ideatore del marchio Dentro Fuori. Per noi troverete la vera e originale pinza romana, in 70 gusti diversi tra loro, dalla tradizionale margherita a dei gusti veramente particolari. L'altra particolarità nostra è il pinza hamburger, un panino fatto con l'impasto della pinza e con un hamburger artigianale di carne danese selezionata. Oppure potrete gustare una selezionata e accurata scelta di carne alla viglia. Gli antipasti e i nostri dolci completano il menù. Il tutto accompagnato dalla nostra carta dei vini e da un'accurata selezione di birri artigiani. Vi aspetto con tutto il mio staff a Grotta Ferrata.